Ma che cosa è Gisela? Vai Ettolo! Ancora! Non sento a Giorgio, ma l'Urru! Menni a qua! Vai! Vai! Oh! Romare di Sirio su Youtube! Per forza! Per forza! Per forza! Per forza! Aspetta! Se avete il coraggio dovete fare un BKS là dentro! BKS è impossibile! S! E' il problema che tu non c'è! E' il problema che tu non c'è! Ma la Pudineva è vero, c'è un bello! Ma non guarda è picco! Ma non te alcolista non è, io mi spengo! E' un massaggio!